E allora buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti. Vi invito ad iscrivervi a questo canale se non siete già iscritti, a condividere questo video e ad ascoltarlo fino alla fine perché sono fomentato e anche incazzato come una sgommata. Quindi mi raccomando massima attenzione perché quest'oggi signori parlo io. Seguite violapress.com che vi dà info, notizie, aggiornamenti, novità sulla Fiorentina, seguite sempre Forza Viola e seguite a me su Instagram e su Twitter. Parlo di Fiorentina perché io ieri ho fatto le pagelle alla Fiorentina che vi invito a vedere se ve le siete persi e ho visto anche che altri giornali quotidiani critici hanno avuto la prontezza, diciamo, l'hanno fatto nello stesso giorno in cui le ho fatte uscire io e così per curiosità mi sono andato a leggere in particolare le pagelle di Fiorentina.it con le quali diciamo in alcune voci concordo per esempio anche loro hanno dato 5 e mezzo a Ribéry come 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 ho dato io in altre concordo meno però soprattutto mi sono soffermato e non voglio fare nomi personali ma mi sono soffermato sulle pagelle stilate stagionali stilate da Repubblica e Gazzetta diciamo quella mini quel 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 pagellario diciamo stagionale citato in due articoli sui giornali Repubblica e Gazzetta e ho letto veramente delle cose avvocato ho letto delle cose che ho detto Sandro calmati leggile in magazzina però poi rispondi e sono qui per questo perché ho letto veramente delle cose che non posso per quella che è la mia idea di Fiorentina per quella che è stata l'idea della stagione della stagione della Fiorentina le leggo e dico abbiamo visto due stagioni due Fiorentine due situazioni completamente diverse ma poi a parte la diversità di vedute che pure ci sta ok ma proprio il dire ma come si fa a dare certi voti e a scrivere certe cose che a mio avviso sono anche in contraddizione tra loro no? e vado e vado a delencarvi quali iniziamo da Repubblica allora su Repubblica io leggo un 4 e mezzo dato a Biraghi a fronte di un 6 e mezzo dato a Venuti ok? allora Venuti ha referto a un gol e un assist ok? Biraghi ha 5 assist e un gol mi spiegate come si può dare questo tipo di valutazione ok? con la scusa sempre con la classica narrazione di Venuti che si impegna all'impegno di Venuti Venuti ragazzo che è dal cuore e dall'anima ho capito ma parliamo di pallone anch'io posso dare l'anima in ingegneria idraulica ma non avere gli stessi risultati magari di uno che è più schillato in quell'ambito lì no? però uno qui almeno può dire beh alla fine saranno diversità di vedute uno pensa che Venuti sia più forte di Biraghi che abbia dato un contributo alla stagione della Fiorentina migliore rispetto a Biraghi anche se i numeri a mio avviso hanno una loro indicazione però sentite questa cioè si dà un voto alla stagione di 3 e mezzo no? cioè secondo lo scrivente la stagione della Fiorentina merita una votazione di 3 e mezzo già anche qui mi chiedo è una pagella su Repubblica si dà 3 e mezzo mi chiedo che voto si sarebbe dato nel caso di una retrocessione meno 4 comunque vabbè 3 e mezzo uno lo dà perché effettivamente la stagione è stata deludente però poi leggi i voti degli allenatori e leggi sia 6 a Prandelli che 6 a Iacchini cioè già anche qui siamo nell'alveo di un qualcosa su cui non sono d'accordo perché non possono avere voti uguali i due allenatori ma poi nella gazzetta leggeremo anche di più il transista ma come fai a dare voto alla stagione 3 e mezzo e poi dare 6 ai due allenatori che sono protagonisti di questa stagione c'è qualcosa quanto meno che non mi torna perché se io vedo una stagione da 3 e mezzo agli allenatori che voglio dire essendo allenatori qualche responsabilità ce l'hanno giudizio coerente vorrebbe che gli do almeno 4 non 6 com'è che la stagione è 3 e mezzo ma gli allenatori 6 cioè vabbè poi 6 e mezzo a Bonaventura e Castrovilli cioè ditemi per quale ragione Bonaventura che da centrocampista quanto ha fatto 2-3 assist 2 gol una cosa del genere 6 e mezzo con il 4 e mezzo dato a Biraghi non si sa perché e 6 e mezzo a Ribéry giustificando il 6 e mezzo di Ribéry con la frase l'altro calcio di Ribéry ma quale altro calcio di Ribéry? quello dei 2 gol da punta titolare al netto degli infortuni quasi sempre titolare della Fiorentina 2 gol col corrispettivo di milioni che gli si dà a stagione che tipo di coerenza c'è nel rapporto qualità prezzo nel dare 6 e mezzo ad uno che gioca da punta che prende 4 milioni a stagione 2 gol 6 e mezzo per l'altro calcio quale? che partite di altro calcio ha fatto Ribéry quest'anno per meritarsi il 6 e mezzo? poi veniamo alla gazzetta 7 a Ribéry ovviamente 7 a Ribéry ci ha fatto vedere cos'è un campione quando? dove? in quali partite? con quali numeri? con quali risultati della squadra? in quale rapporto? qualità prezzo risultati? squadra classifica? va bene 7 a Prandelli ci ha regalato un nuovo Vlaovic ora permettetemi questa teoria questa retorica sul Vlaovic aiutato da Prandelli sul buon lavoro di Prandelli fatto su Vlaovic ma in una certa qual misura se è un qualcosa di limitato di razionale lo posso anche accettare non ho nessun tipo di problematica a dire che Prandelli può aver fatto un buon lavoro su Vlaovic limitatamente al fatto che aveva poche alternative limitatamente al fatto che era l'attaccante su cui la società aveva puntato limitatamente al fatto che l'attaccante aveva già segnato anche prima ma guardate bene che questa retorica che spesso si legge che pur di dare dei meriti a tutti i costi a Prandelli non fa il bene a mio avviso né di Vlaovic né della Fiorentina in generale perché sembra quasi sembra quasi che questo se non ci fosse stato Prandelli chissà cosa stavamo a commentare ma guardate che il ragazzo ha anche delle qualità sue ha dei meriti lui ha dei meriti chi l'ha portato a Firenze hanno dei meriti gli allenatori delle giovanili che ci hanno creduto hanno dei meriti anche Pioli per certi versi che l'ha fatto giocare quegli spizziconi di partita quando c'era lui ha dei meriti Montella che l'ha lanciato e confermato ha dei meriti Iachini col quale segnava l'anno scorso e col quale ha continuato a segnare anche dopo Prandelli no perché a volte leggo delle cose che sembra che Vlaovic sia stato inventato da Prandelli i meriti del ragazzo e i meriti di chi l'ha fatto crescere e i meriti di chi l'ha portato qui l'ha portato ad essere questo non esistono poi sette a Prandelli perché ci ha regalato un nuovo Vlaovic e sei e mezzo a Iachini cioè ha preso un voto più alto Prandelli che ha una media voto più bassa una media punti più bassa di Iachini ok pur avendo una media punti più bassa di Iachini ok ha preso un voto più alto di Iachini stesso sei e mezzo avvenuti anche qui perché ci mancherebbe e quattro Adam Rabat e Biraghi cioè voi spiegatemi con quale tipo di giustificazione ma non è una domanda retorica è una domanda reale cioè con quale tipo e ve li lascio gli articoli in descrizione cioè con quale tipo di giustificazione io posso leggere quattro Adam Rabat e Biraghi e sette a Prandelli e Riberi cioè io se vogliono venire sul canale se ne vogliono parlare io invito volentieri ma evidentemente abbiamo visto abbiamo visto due fiorentine diverse e siccome mi pare di aver azzeccato abbastanza di quella che è stata la stagione della fiorentina precedente cosa sarebbe successo cosa è successo come è andata forse abbiamo visto boh delle fiorentine diverse si respira un'area calcistica diversa a Firenze rispetto a quello che magari vede uno non da Firenze boh ma io veramente a leggere a leggere voti di questo tipo a leggere pagelle di questo tipo poi posso capire che non siano delle pagelle fatte in riga come magari le ho fatte io che mi sono preso tutti i giocatori ma non ha senso scrivere queste cose ma anche questo accadimento scusatemi questo accadimento su Biraghi è ora che lo si spieghi perché io posso capire uno che mi dice io posso capire uno che mi dice guarda secondo me Biraghi non ha fatto una stagione esaltante perché quel calo che ha avuto con Prandelli dopo l'inizio di stagione buono un po' mi è rimasto sullo stomaco pensavo potesse continuare a rendere di più ci credevo è vero che ha fatto gli assist è vero che è stato importante però non è un giocatore che mi piace moltissimo però voglio dire così ci sta come io per esempio posso dirvi che non mi è piaciuto buonaventura non gli do la sufficienza un altro magari gliela dà lì siamo nell'alveo della normale discrepanza e distanza tra piaceri tra simpatie personali tra quello che uno apprezza in campo di un giocatore ma non questo tipo di discrepanze e non mi limito a questi due articoli io vi ripeto su Biraghi penso che ci sia un accanimento anche precalcistico che sarebbe l'ora di spiegarci da parte di molti e critici e tifosi perché io per esempio quando successe quella cosa con Pezzella che dopo Fiorentina Frosinone se ne uscì dicendo stiamo pagando il fatto che la società non ha ancora rinnovato il contratto a Pioli me l'ha presi anch'io mi scese molto il giocatore e mi stette sui maroni per diversi mesi è da poco che ho superato quella cosa lì ma io ve l'ho sempre detto che quando parlavo di Pezzella quando valutavo Pezzella avevo ancora in testa quella cosa lì che per certi versi anche mi offuscava il giudizio su Pezzella ma se tu c'hai una cosa altrettanto con Biraghi che tu sia giocatore o giornalista è dillo però perché io spesso vedo delle preconcettualità verso Biraghi che non mi sembrano figlie di una mera analisi calcistica perché ci sta che il giocatore faccia delle partite negative come tutti ma quando fa le partite positive bisogna dirle quando ha delle skills che servono alla squadra che hanno un'utilità per la squadra devi dirle ma come fai a dare 4 4 e mezzo al giocatore che ha fatto più assist della squadra dopo Ribery che ha fatto più assist di tanti centrocampisti strombazzati di tanta gente che viene presentata come miracolosa come di altissimo livello i vari venuti ha fatto più assist di venuti più assist di Igor più assist di Buonaventura di Castrovilli di gente che gioca più vicino alla porta quello non conta non conta il fatto che praticamente attacchiamo solo dalla parte sua sinistra non conta il fatto che è l'unico assieme a Castrovilli ad essere in odore di Nazionale per esempio non conta il fatto che in Serie A è uno dei migliori giocatori per numero di assist e occasioni da gol create non conta il fatto che una grandissima percentuale di gol segnati dalla Fiorentina passa dai suoi piedi quello non conta cioè voi ditemi come si può arrivare a dare voce 7 a Prandelli 4 a Damrabat ma perché? non mi sembra di essere io esagerato poi leggo leggo ste cose leggo ste cose e capisco con me leggo ste cose e capisco con me perché c'è veramente c'è l'idea di pigliare anche delle simpatie delle proprie inclinazioni verso il calcio e metterle così senza un attimo di giustificativo tecnico tattico senza un minimo di dire gli do perché tu non puoi voi ditemi cosa giustifica il dare 3 e mezzo alla stagione della Fiorentina e dare 6 ai due allenatori che ne sono stati protagonisti ma che tipo di rapporto anche matematico logico razionale c'è fatemi il piacere poi altra cosa di ieri le scene di Borca Valero lì hanno fatto ancora con sta retorica da Sandro Curzi di Borca Valero il sindaco la fascia ma basta ma basta stesso discorso anche di Venù gente idolatrata gente per micro simpatie localistiche che non hanno nessun tipo di raffronto sul campo a fronte di altri magari che hanno penso avere tu quando era la Fiorentina anche a tanti che invece vengono presi di mira da subito e magari pur avendo un'utilità importante che poi magari dimostrano altrove avendo dei numeri vengono subito presi di mira e messi in croce c'è gente invece che tipo Borca Valero quest'anno cosa ha fatto poi un'altra cosa un'altra cosa ovviamente non c'era Borca Valero nei voti di queste pagelle ma una riga una riga sulla dirigenza in queste due pagelle per esempio visto che la stagione era stata da tre e mezzo ma un voto a Pradè un voto alla dirigenza un voto a chi l'ha costruita sta squadra niente si va sui giocatori ma sulla dirigenza io l'ho fatto e altre pagelle no però va bene comunque vi ripeto anche sta cosa di Borca Valero sindaco se per ste micro simpatie invece ho apprezzato tantissimo ho apprezzato tantissimo io qui lo ringrazio e ti dico Martino io ti amo ok tutti astra che siete d'accordo con me Martino io ti amo nei commenti messaggio audio nostrissimo di Caceres e il comandante non la sia mai la nave l'audio messaggio di Caceres la giusta risposta le giuste risposte a tanto parlare a tanto vociare a tanto catechizzare la data Martino Martino capitano ok assieme a Cristiano ok già prima volevo che tu restassi dopo questo video attenzione attenzione tu devi restare Martino deve restare io mi bacterò io mi bacterò per il rinnovo di contratto a Caceres Martino Caceres Martino deve restare alla Fiorentina poi distruggo un'altra narrazione ha un po' rotto i maroni anche questo discorso che si dice eh ma non è facile convincere la gente a venire alla Fiorentina perché c'è scarso appeal e non puoi attirare i grandi nomi con il poco l'appillo crei l'appillo crei vi faccio l'esempio ma bene posso citare tanti vi posso fare l'esempio di di Zanga l'Inter che pian piano ha avuto un periodo di crescita vi posso fare l'esempio della Fiorentina quella dell'anno di Delio Rossi Guerini che si salvò all'ultima giornata e l'anno dopo iniziò il ciclo del primo Montella che tanto fece bene alla Fiorentina tu fai un bel rinnovo dirigenziale prenditi un tuo marotta cambia direttore sportivo dai l'idea di star costruendo una realtà di calcio importante proiettata al futuro che vuole avere delle rivincite vedi se non lo trovi l'appeal vedi se anche dei giocatori non iniziano ad essere interessati a quello che stai per costruendo e qui vengo ad un altro articolo che vi riporto anche questo in descrizione che per certi versi ricalca a quello che vi ho detto in questi giorni cioè molti parlano di rivoluzioni di giocatori che bisogna cedere 16, 17, 20 giocatori io vi ho saputo guardate che non credo neanche sia corretto perché qualche giocatore buono c'è non è che va preso tutto e buttato dalla finestra ma soprattutto è molto difficile a livello economico che questo che questo che questo succeda capito infatti questo articolo si dice che è idea della dirigenza quella di non fare rivoluzioni di giocatori per cui vanno via 10, 15 giocatori su 20 che ce ne sono si faranno degli interventi di correzione mi ha visto anche una logica condivisibile e non mi aspettavo onestamente una rivoluzione io sono d'accordo su questo ma la rivoluzione ripeto potevi e dovevi farla che lì costa anche meno ed è tutto un investimento che ti ritorna su dirigenza e tecnico nessuno ti chiede almeno io non ti chiedo di vendere 20 giocatori su 25 ma cambiare dirigenza avviare un nuovo un nuovo progetto e prendere il miglior allenatore raggiungibile sulla piazza per le tue possibilità sì e questo ti costa molto meno rispetto al comprare 20 giocatori nuovi ovviamente no? questo si può e si poteva fare per esempio che era l'unica rivoluzione che si chiedeva e che sarebbe per certi versi servita quella dirigenziale barra progettuale chiudo dicendo che Gattuso chiudo con Gattuso Gattuso a mio avviso col quinto posto del Napoli ha chiuso una stagione deludente quest'anno il Napoli per me ha fallito perché aveva una squadra da arrivare almeno in Champions League aveva una squadra sicuramente per fare meglio dell'uscire ai sedicesimi contro contro il Granada è stata un'annata assolutamente deludente come poi vi ho detto anche nelle pagelle di stamattina e quindi spero che questo magari possibile calo di appeal di Gattuso da parte di Juve e Lazio magari che visto il risultato del Napoli magari adesso un po' ci pensano prima di chiamarlo che non sia una scorciatoia per farlo venire da noi perché io onestamente non è che dico che è tutto male Gattuso non è che è il peggior allenatore sulla piazza per carità ma io ripeto e ve lo dico da prima di domenica penso ci sia di meglio su tutti lasciando stare Sarri e Spalletti ma anche lo stesso Fonseca anche lo stesso Fonseca che mi auguro possa alla fine se i nomi che girano sono questi mi auguro che possa essere il nuovo allenatore della Fiorentina Gattuso meglio di Inzaghi però perché Simone Inzaghi e la Fiorentina no assolutamente no Gattuso vi ripeto alla luce di quello che ha fatto con il Napoli sarebbe prendere un allenatore comunque che viene da un fallimento perché è stato mandato via da De Laurentiis praticamente su Twitter l'altro giorno è arrivato quinto con una squadra da terzo posto uscito ai sedicesimi contro il Granada cioè ditemi voi sfido gli esegetti di Gattuso a dirci cosa è stato quest'anno al Napoli di Gattuso perché veramente gli infortuni ce ne hanno avuti tutti basta questa storia sembra anche lì di andare sempre su retoriche è stata un'annata deludente ditemi cosa ne pensate un caro salute